4.97 in campo dal primo minuto, questo significa insomma la linea verde della Roma continua? Il programma societario continua, non cambia né una vittoria né una sconfitta, abbiamo anche 5.98 in panchina, è vero che è stata una piccola forzatura per le convocazioni che il mister ha fatto insomma in prima squadra, tanti nostri giocatori stasera sederanno in panchina, insomma per noi è un motivo d'orgoglio assolutamente e poi continuiamo il nostro lavoro, abbiamo una squadra lievi molto interessante, molto importante e perciò è un momento anche di inserire anche altri giocatori. A Catania l'andata finì 3-0 per la Roma, oggi cosa si attende? Una partita ugualmente facile o sarà invece tutto un altro discorso? Allì fu una partita molto difficile perché andammo in vantaggio, invece i nostri avversari ebbero una reazione fantastica e ci misero sotto per almeno tutta la prima parte del secondo tempo, poi facemmo il secondo gol e la partita si incanalò positivamente per noi. Oggi poi le partite d'andata non fanno testo, oggi è una partita completamente diversa, i nostri avversari giustamente sono aggueriti e sono anche molto forti e ben allenati, perciò sarà una bella partita. Roma capolista del Giro NRC del campionato Primavera, però domani partirà per il torneo di Viareggio dove incontrerà tra l'altro gli argentini del Belgrano. Quanto si tratta questa manifestazione internazionale? È la manifestazione più importante che c'è in Italia, forse anche in Europa, oltre alla Jute League. Perciò ci andiamo per fare bella figura, per mettere in mostra i nostri giocatori e perché no, per fare anche un pensierino per arrivare più lontano possibile. Bocca a lupo.